Presidente, allora il punto della situazione qui a Ventimiglia per quello che riguarda i migranti, come avete fatto col sindaco Iocurano, cosa vi siete detti? Da un punto di vista generale direi che il Ventimiglia è purtroppo la prova vivente del fallimento delle politiche italiane di contenimento dei flussi e di gestione dei traffici dei migranti all'interno del territorio nazionale, delle politiche europee di apertura delle frontiere e di divisione delle responsabilità che anche in queste ore vengono negate all'Italia, direi con una certa fermezza, nonostante proclami e auspici in senso opposto del nostro governo. Da un punto di vista pratico, questo campo, ringrazio i volontari e il personale della Croce Rossa che lo gestisce, è un campo che cerca di dare una dignitosa assistenza e aiuto a persone a cui è stato promesso una vita migliore e che purtroppo qua non la trovano. Ventimiglia rileviamo che passerà un'altra estate di emergenza con i migranti. Abbiamo dato al sindaco tutto l'aiuto che possiamo dargli dal punto di vista sanitario con le nostre asle che sono presenti qua nel campo e anche in città, con fondi straordinari che abbiamo stanziato per la pulizia del letto del fiume Roia, per consentire agli agenti di pubblica sicurezza di fare meglio il loro lavoro e anche di evitare incidenti con il riprendere delle piogge in autunno che hanno riguardato drammaticamente alcuni migranti. L'unico modo per alleggerire la situazione di Ventimiglia, che fino adesso non è stata possibile fare perché le politiche messe in campo dal governo nazionale non hanno funzionato, nei controlli a pettine, nei rispingimenti verso zone diverse del nostro paese, è diminuire drasticamente il numero degli arrivi. Purtroppo con i numeri di migliaia che si sentono in queste ore, temo che la situazione qui sia drammaticamente rivolta a crescere durante il mese d'agosto e questo se lo aspettano tutti quanti. Occorre concentrare in questo campo tutti coloro che arrivano, bisogna mettere in campo tutte le politiche di deterrenza perché vengano qua e non stiano in altri luoghi della città insicuri per loro e irragionevoli e insicuri per i cittadini che ci abitano. Occorre che le associazioni che cercano fintamente di dare una mano ai vari faccinerosi che hanno preso Ventimiglia come luogo d'elezione per le loro inutili vacanze la smettano di remare contro quello dello sforzo che Croce Rossa, Sindaco, istituzioni territoriali e forze di polizia stanno facendo perché questo diventi l'unico vero campo in cui si può stazionare a Ventimiglia. Non mi aspetto nulla dai francesi perché fino ad oggi nulla hanno fatto e quindi cerchiamo di gestire il quotidiano e di stare vicino a un sindaco e una città che hanno sofferto molto con i mezzi della regione sapendo che la soluzione purtroppo non è in Liguria. Sindaco Dioculano, qui si stanno susseguendo, possiamo dire, le visite politiche istituzionali al Parco Roia. Lei da tutto questo che bilancio deriva? Che cosa si pensa? Perché c'è comunque preoccupazione per il prossimo futuro, per l'aumento degli sbarchi e che possa incrementarsi anche la presenza qui al confine? Io penso che un'attenzione da parte anche delle autorità politiche nazionali, a livello nazionale, sia positiva perché da un certo punto di vista va a centrare un po' quello che è il problema e può sollecitare eventualmente azioni non dico risolutive ma che cambiano un po' la situazione. Il dato di fatto lo sapete, lo conosciamo, i problemi sono tanti e sono diversi. È evidente che nel momento in cui non diminuiscono gli arrivi in Italia la situazione da gestire sarà comunque vada particolare e difficile. Poi noi ci stiamo mettendo il nostro meglio, purtroppo c'è anche chi lavora contro. Ecco, lavora contro nel senso che c'è chi vorrebbe qualche punto più o meno di accoglienza anche fuori dal Parco Roia, questa è una questione? Io penso che la gestione del fenomeno per essere il più efficiente possibile debba essere rigorosa e ordinata. Questo vuol dire seguire un filo logico e un circuito dato dalle istituzioni, dalla Prefettura, in collaborazione con il Comune, con Croce Rossa, con tutti i soggetti che si sono messi, il Ministero dell'Interno, che si sono messi in campo in questo momento. Purtroppo è verificato, ci sono situazioni chiare in cui soggetti extra circuito insomma lavorano evidentemente per creare confusione e disordine. Questo non aiuta la città di Ventimiglia.